Ma parliamo prima di tutto del perché noi siamo arrivati a questo punto, perché tante volte la gente dice ma voi rimanete sempre sobri, mi raccomando non fate mai complottisti, rimanete così come siete. Noi continuiamo a rimanere come siamo, non siamo complottisti, però dobbiamo anche guardare quello che sta succedendo là fuori. E nel guardare quello che sta succedendo là fuori non possiamo fare a meno, visto che abbiamo studiato un pochino, di fare paragoni con il passato, di servirci delle lezioni del passato per evitare che nel futuro possano accaderne di peggio. Dobbiamo assolutamente tenerne presente, perché l'uomo sempre quello è. Ce lo hanno spiegato tutti gli intellettuali più importanti del mondo fino ad oggi, da Primo Levi a Don Gallo. Cioè, voglio dire, i fascismi ancora esistono, non possiamo pensare di averli eliminati sotto varie forme. Magari mascherati dal contrario, ma possono tornare, perché l'uomo è così, non è ancora, non ci siamo ancora immunizzati da questa volontà di non essere solidari l'uno con l'altro, ma anzi di voler sopraffare. E lo leggiamo, Vanni, ecco, le ultime due cose che vuole leggere sono queste, poi parliamo un po' più della tua materia, però questo è interessante, perché un po' la riguarda. Parliamo, e lo abbiamo già accennato nel passato, parliamo di queste questioni, no? Che sono già successe, sono accadute nel passato. Cioè, noi siamo arrivati, sino ad oggi, non perché c'erano già le mascherature, le case farmaceutiche, bifarma, eccetera. No, ci siamo arrivati perché l'uomo si è avuto normalmente. Poi nel passato ci sono state alcune forme, diciamo, di epidemie, no? Ok. E guarda caso, le epidemie del passato sono sempre state foriere di elementi per il potere, di conquistare ancora più potere. O addirittura di tentare di instaurare un potere definitivo, per il tramite della malattia e della paura, come dicevi tu prima. E poi ci sono degli scrittori, come François Bonivar, oppure come Sergeyev Tzensky, che ne hanno scritto del loro tempo, in quello che è accaduto nelle loro città, e hanno riportato quello che è successo. E cominciamo a leggere velocemente, veramente, vado veloce, evito di fare la lettura come prevede il corso di edizione, tutte queste cose dell'attore, evitiamo, vado veloce, perché così la gente capisce. Questa è una lezione dalla Peste del passato, scritta da François Bonivar in Cronache di Ginevra, secondo volume, pagine 395-802, chi vuole se lo va a prendere e leggere, e noi lo leggiamo. Quando la peste bubonica colpì Ginevra nel 1530, quindi stiamo parlando del 1530, attenzione, tutto era già pronto Ginevra, ci troviamo a Ginevra, quindi non in un posto lontano dall'Europa, proprio nel centro d'Europa, Ginevra, in Svizzera. Quindi era tutto pronto, dice Bonivar nel 1530, quando arrivò la peste a Ginevra. Hanno persino aperto un intero ospedale per gli appestati, con medici, paramedici e infermieri. I commercianti contribuivano, il magistrato dava sovvenzioni ogni mese. I pazienti davano sempre soldi e se uno di loro moriva da solo, tutti i beni andavano all'ospedale. Ma poi è successo un disastro. La peste andava spegnendosi, mentre le sovvenzioni dipendevano dal numero di pazienti. Non esisteva questione di giusto e sbagliato per il personale dell'ospedale di Ginevra nel 1530. Se la peste produce soldi, allora la peste è buona. E poi i medici si sono organizzati. All'inizio si limitavano ad avvelenare i pazienti per alzare le statistiche sulla mortalità. Ma si sono presto resi conto che le statistiche non dovevano essere solo sulla mortalità, ma sulla mortalità da peste. Così cominciarono a tagliare i foruncoli dai corpi dei morti, asciugarli, macinarli in un mortaio e darli agli altri pazienti come medicina. Poi hanno iniziato a spargere la polvere sugli indumenti, fazzoletti e giarrettiere. Ma in qualche modo la peste continuava a diminuire. A quanto pare i buboni essiccati non funzionavano bene. I medici andarono in città e di notte spargevano la polvere bubonica sulle maniglie delle porte. Selezionando quelle case dove potevano poi trarne profitto. Come scrisse un testimone oculare di questi eventi, questo rimase nascosto per qualche tempo. Ma il diavolo è più preoccupato di aumentare il numero dei peccati che di nasconderli. In breve, uno dei medici divenne così impudente e pigro che decise di non vagare per la città di notte, ma semplicemente gettò un fascio di polvere nella folla durante il giorno. Il fetore si arriva al cielo e una delle ragazze, che per un caso fortunato era uscita da poco da quell'ospedale, scoprì cosa fosse quell'odore. Il medico è stato legato e messo nelle buone mani degli artigiani competenti. Hanno cercato di ottenere più informazioni possibili da lui. Comunque l'esecuzione è durata diversi giorni. Gli ingegnosi ippocrati venivano legati a dei pali e su dei carri e portati in giro per la città. A ogni incrocio i carnefici usavano pinze arroventate per stappare loro pezzi di carne. Venivano poi portati sulla pubblica piazza, decapitati e squartati. E i pezzi venivano portati in tutti i quartieri di Ginevra. L'unica eccezione fu il figlio del direttore dell'ospedale, che non prese parte al processo, ma spifferò che sapeva come fare le pozioni e come preparare la polvere senza paura di contaminazione. È stato semplicemente decapitato per impedire la diffusione del male. Questo scrive François Bonivar nel suo Cronache di Ginevra, secondo volume. Questo ce lo racconta, è una testimonianza del passato, di quello che è già accaduto. Tutto quello che è già accaduto può riaccadere, ma dobbiamo soltanto prenderne atto. Noi non facciamo altri commenti. Prima del parere di Vanni vorrei parlarvi di un altro racconto che ci viene da Sebastopoli. Sergeyev, un nome complesso, ovviamente di origine asiatica, di all'est, ci scrive però, nel volume 3, La passione di Sebastopoli, capitolo 7, un altro racconto che riguarda queste questioni. Ma siamo spostati 300 anni dopo, nel 1828. E ci dice questo. Non c'era peste a Sebastopoli nel 1828, ma c'era una quarantena. Come misura preventiva. Nel 1829 non c'era ancora la peste, ma la quarantena fu rafforzata. Chiunque volesse lasciare o entrare nella città, doveva stare in completo isolamento per 14-19 giorni. E la gente smise di viaggiare. C'erano carenze di approvvigionamento. Il denaro della tesoreria zarista fu stanziato per combattere l'epidemia. Di conseguenza i funzionari compravano cibo a prezzi gonfiati dai loro fornitori in cambio di tangenti e ai cittadini davano il cibo peggiore. Naturalmente tutti coloro che traevano profitto dall'epidemia, specialmente i funzionari medici, erano interessati alla continuazione di questa festa. Tutti i casi di qualsiasi malattia furono dichiarati peste. L'ufficio di quarantena cerca di diagnosticare tutte le malattie ordinarie come peste, scrisse il contrammiraglio Salti, che era in servizio a quel tempo a Sebastopoli. L'ammiraglio Greg testimoniò Durante cinque mesi non si sentì parlare di malattia né si moriva di morte naturale e che si malava in ospedale o in casa veniva dichiarato morto per peste. Tutti coloro che si ammalarono furono portati nella caserma di Capo Pavloschi dove furono tenuti in condizioni tali che morirono rapidamente. La disinfezione al cloro fu usata nelle parti più povere della città, Cioè, anche i cittadini furono avvelenati. I disinfestatori erano pagati 2,5 rubli al giorno. 75 rubli al mese se lavoravano quotidianamente. I commissari di quarantena ricevevano 5 rubli ciascuno. L'ufficiale medico capo e l'ispettore di quarantena ricevevano 10 rubli al giorno. Lo stipendio di un medico militare ordinario a quel tempo era di 171 rubli all'anno. Per aumentare il tasso di malattia i medici consigliavano agli abitanti dei bagni di mare in acqua fredda. Alla fine del giugno del 1830 gli abitanti dei quartieri più poveri della città non furono più in grado di sopportare la situazione e ci fura rivolta. La guarnigione si schierò con i ribelli. Il governatore, i suoi funzionari e i medici furono massacrati dalla folla. La rivolta fu rapidamente soppressa, ma per una sorprendente coincidenza l'epidemia a Sebastopoli ebbe una fine immediata. Ora, perché abbiamo voluto leggere questo? Perché è letteratura, ve la trovate in libreria. Questi racconti che ci vengono dagli scrittori del passato, li trovate in libreria, li andate a comprare, ve li leggete, poi li cercate in rete, li trovate sicuramente. È storia, non possiamo ignorarla. Se la ignorassimo saremmo degli ignoranti e non potremmo adempiere al nostro dovere, che è quello di guardare al futuro, di migliorare la nostra condizione, di far sì che gli orrori del passato non si ripetano. Quando qualcuno mi viene a dire, ma tu fai i paragoni? Sì, li faccio. Perché l'uomo questo è. Quando ha il potere in mano, fa questo. Vanni, scusa, io ho rubato un po' di tempo, però io credo che questo sia giusto saperlo, perché è un elemento per valutare, no? E per far sì anche che le costituzioni moderne vengano spiegate. Quando ci sono dei divieti, non puoi entrare nel mio corpo. Ma guarda Fabio, questi scritti che hai letto, non ti nascondo che mi hanno messo l'ansia. Riprendiamo battiato. Sì, beh, tutto sommato, la natura umana può andare, diciamo, verso una direzione di luce o può andare verso una direzione di oscurità. È un'antichissima storia questa. Ogni volta che c'è il potere, è molto raro che il potere sia gestito in una maniera che sia trasparente. Torniamo ai tempi di Platone e di chi dovrebbe essere il politico. Insomma, è un discorso complicatissimo. Per quanto riguarda i medici, io personalmente credo che la maggior parte dei medici non abbia questo tipo di spirito oggi, quantomeno spero che dal 500 a oggi sia un po' diversa. I livelli più alti o farmaceutici sicuramente hanno invece un approccio di tipo differente. Grazie. 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 Grazie.